Dopo il successo dell'iniziativa di novembre Condotte Slow Food ci riprova da oggi fino a dicembre 2018, ogni seconda domenica del mese, il mercato coperto di Campobasso tornerà in vita per il mercato contadino ed artigiano. Tra i 30 e i 50 produttori, trasformatori e artigiani provenienti da ogni angolo del Molise metteranno in vista sui loro banchi il meglio dei prodotti regionali. Non solo, ma saranno a disposizione di chiunque vorrà informazioni sulla filiera corta, economia locale, stagionalità, sulla trasformazione sui metodi di allevamento. Per questo gli organizzatori hanno pensato non solo ad un'area di degustazione, ma anche di proiezioni, conferenze, workshop ed esperti. Oggi c'è un'opportunità in più per i produttori molisani di farsi conoscere sul territorio. Quest'iniziativa che veicola vuole essere un pacchetto, un contenitore effettivamente per le realtà molisane, torna con dieci date da qui a dicembre, ogni seconda domenica del mese e vuole raccogliere le eccellenze di questa nostra terra, partendo da produttori che siano biologici, da produttori che rispettano il benessere animale, da trasformatori che lavorano con il territorio e con i produttori che escono fuori da esso. Un modo di pensare e ripensare il mercato coperto di Campobasso come ad un contenitore dove il visitatore possa compiere un cammino di consapevolezza sul cibo e la sua importanza, sull'agricoltura biologica, le sofisticazioni alimentari, i cambiamenti climatici, l'agricoltura sostenibile. Una struttura come questa necessita di organizzazione, per cui abbiamo iniziato a cooperare con i condotti Slow Food, la Galdina e il Campobasso, abbiamo iniziato a cooperare con altre associazioni di categoria e associazioni senza scopo di lucro che promuovono il nostro territorio. A livello di cultura della gastronomia, a livello di cultura storica e di radici che ci contraddistinguono anche nelle nostre produzioni. Questo contenitore deve dare la possibilità ai produttori di poter vendere, di poter essere conosciuti e di stabilire rapporti perché vogliamo che i clienti si fermino a parlare con i produttori e conoscano le peculiarità, ma soprattutto deve essere anche un contenitore di informazioni e di educazione. Per cui ad ogni evento faremo tre conferenze o due conferenze o un laboratorio all'interno del quale promuoveremo i prodotti, ne parleremo con i produttori, faremo riunioni con i produttori per vedere quali sono le problematiche inerenti ai nostri settori e in questo modo vogliamo ricreare quello che è un tessuto produttivo che nell'arco degli anni si è slegato e questa è di un po' la nostra mission. Come vedete ci sono tanti sorrisi in giro per cui penso che sta funzionando. Grazie. 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 Grazie.